Degustazioni in crociera, il vino sulle onde, siamo arrivati ad una tappa importante, quella delle donne del vino con le donne del vino Delegazione di Puglia e soprattutto poi andremo a incontrare anche i loro vini, perché abbiamo una selezione spettacolare di vini che vengono dal Salento ma prima ancora l'appuntamento continuo con Baglio di Pianetto, una grande azienda siciliana che andiamo subito ad incontrare